Sicuramente nuovamente una buona disponibilità, vedo una ricerca comunque fatta con convinzione da parte dei ragazzi, quindi questo mi soddisfa. Se c'è una cosa che oggi non mi è piaciuta è il gol preso, perché è un gol preso per mancanza di concentrazione e questo non ce lo possiamo permettere, perché dobbiamo imparare anche in questo tipo di partite a mantenere una concentrazione massima sempre perché gli inconvenienti sono dietro l'angolo, quindi sull'atteggiamento, sulla mentalità dovremo ancora lavorare tanto perché questo gol, ripeto, è un segnale che dobbiamo insistere anche su questo. Mister, la presenza del presidente De Laurentiis in questi giorni è stata occasione anche per parlare, aggiornarsi, capire, fare un po' il punto della situazione. Cosa vi siete detti? Sì, il pres è venuto qui e sta venendo qui spesso, naturalmente per stare vicino alla squadra e per aiutare anche noi a portare avanti quelle che sono le strategie che stiamo cercando di mettere in atto, quindi in questo momento la sua presenza ci serve perché dobbiamo costruire la squadra, la dobbiamo rinforzare e quindi insieme bisognerà trovare i giocatori giusti per migliorare la squadra. Sì, sorrido perché si è fatta qualche parola di troppo sulla nostra chiacchierata, una chiacchierata comunque che ha riguardato diversi temi, non solo quelli e comunque quando c'è da dirsi qualcosa non penso che sia il campo di calcio il luogo adatto per dirsele, no? Quindi c'è da tranquillizzare assolutamente in questo senso e naturalmente si parla anche di mercato perché sappiamo benissimo quanto il mercato può influire nell'economia della squadra, quindi si parla di quello, si parla della gestione della squadra, del lavoro, delle idee, dell'organizzazione. Quindi con un presidente si parla sempre a 360 gradi di tutto ma è giusto che sia così perché bisogna condividere queste situazioni e farlo nel miglior modo possibile sempre per il bene del Bari. Sì, come vi ho detto, le rassicurazioni nel far arrivare qualche giocatore sono arrivate, ci sono, quindi è normale che un allenatore li aspetta e li vuole il prima possibile, no? Perché c'è un lavoro di campo da fare, da mettere in piedi e quindi non è una cosa così automatica quando arrivano, però c'è anche regole di mercato che a volte fanno sì che non possano verificarsi subito ma sicuramente le rassicurazioni sono arrivate. Favazulis-Garbi, ripeto, sono in questo momento positivi nell'interpretare quelli che sono i loro compiti in questo momento, sono anche quelli che forse fisicamente stanno anche già un pochino meglio degli altri perché sono due giocatori che hanno nel volume di corsa una delle loro caratteristiche principali, quindi in questo momento però bisogna prendere tutto con le pinze perché i carichi del ritiro sono comunque diversi anche per le caratteristiche fisiche. Beh, ho già risposto in parte alla domanda precedente, le tempistiche è normale che io li vorrei ieri, non domani, ieri, però devo comunque avere pazienza perché il mercato ha le sue dinamiche e di conseguenza spero arrivino il prima possibile perché, ripeto, abbiamo bisogno di inserirli in un contesto organizzato perché crediamo molto nel lavoro, non crediamo solo nell'improvvisazione, quindi vogliamo metterli in un contesto e per averli bisogna poterci lavorare, ma, ripeto, secondo me già nei prossimi giorni sono convinto che qualcosa arriverà. Ma naturalmente sono informato perché mi informo, perché è la nostra categoria, quindi è giusto essere informati. Come sempre parlando di Serie B, sarà una Serie B di nuovo altamente competitiva perché ci saranno squadre veramente molto attrezzate, con budget veramente molto molto alti e per quanto riguarda la Serenitana sono innanzitutto contento che Gianluca Petracchi sia tornato in pista perché secondo me era inspiegabile che non lo fosse perché ha dimostrato sul campo di essere un grande direttore sportivo, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo.